Piccolo robotino! I banditi sono ancora in città. I ladri hanno commesso tre furti. La polizia non riesce ancora a trovarli. C'erano due banditi, mi hanno chiesto i soldi e mi hanno minacciato con una pistola. Ho bisogno di vedere le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza. Sfortunatamente, delle persone del centro servizi sono venute ieri a ritirarli per dei controlli di routine. È strano. Sì, una sfortunata coincidenza. Non credo nelle coincidenze. Hanno superato il limite! Se continua così la gente comincerà a lasciare la città! Facciamo del nostro meglio, ma sembra che quei delinquenti siano sempre un passo davanti a noi. L'informatore ci ha dato una dritta. Ci sarà una rapina in un salone di esposizione di auto domani. Intenderemo un'imboscata. Non scapperanno di nuovo. C'è qualcuno di sospetto? Tutto tranquillo per ora. Tutto tranquillo per ora. Magencolo per ora. Beneva 국i come più magna in un piano gear da nessun ordine danarka Ora pubbliccićуть paura. Declariamo le paniche di video che sono in strid mediamente che leggero sullo del genere È che lavorano in un'ambient% ancora! Severaluke non servirebbe che non servissima. E' laципa concopata che studia pannoositare in un langhead미, Non tipo di non servizio, ma nessuno si forwarde, Beneva così e fermità! Grazie a tutti. Salve, ho una pizza per il Maggiore Harry. Ma io non l'ho ordinato. Qui c'è una nota. Buon appetito Maggiore. Speriamo di essere arrivati in tempo e che abbiate un grande appetito. Con i nostri omaggi. Fermate l'operazione. Sanno che siamo qui. È una buona giornata, Maggiore Harry. Non proprio. Stavo prendendo dei pezzi di ricambio dal salone quando ho incontrato la gente. Ho un'idea. Ho notato uno strano andamento. Il giorno prima di tutti i furti arriva qualcuno del centro servizi e prende le videocamere o cambia gli allarmi. È vero. Una settimana fa sono venuti alla nostra stazione per controllare i computer. Penso che abbiano installato delle cimici e che vi ascoltino. Questo spiegherebbe perché sono sempre un passo davanti a noi. Verrò da voi tra poche ore con un gadget speciale e cercheremo l'insetto. Non ci deluderà, vero? Tutte le conversazioni sono sicure ora. Le cimici funzionano come una radio. Mandano segnali dall'ufficio ai banditi. Questa gabbia ferma i segnali e non li fa uscire. Così qualsiasi cosa viene detta in questo edificio sarà un segreto. Ben fatto Andy Andy. Ora dobbiamo scoprire che ha fatto tutto questo. Grazie per aver guardato il nostro cartone, bimbi. Per favore, scegli cosa puoi vedere ora. Abbiamo molti, molti cartoni interessanti.